ad un certo punto la temperatura si abbassò bruscamente e da mezze maniche a impermeabile e cappuccio come una sorta di eclissi solare che la temperatura si abbassa e viene freddo questa sabbia offuscò il cielo e il sole ma facciamo un salto indietro e partiamo da qui grazie qui il clima cominciò a cambiare da sud ovest sopraggiungeva il vento, mite il polviscolo diventò sempre più fitto a Oh mio quanta sabbia Dove? Tutto pieno No Il Sahara Il Sahara Il Sahara Il Sahara Il Sahara Il Sahara Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti